argomenti un po' scottanti, ma chissà quante volte abbiamo pensato e preferito una osservanza delle regole piuttosto a capire che senso ne avesse, quella regola, quella situazione, come comprenderla, come leggerla, come capirla. Oggi ci troviamo davanti a una delle tante dispute, questi sembrano degli screzi, ma sono dei veri tribunali impostati così in breve, ma dei quali forse ciascuno di noi ha i suoi, ognuno si è attrezzato nella vita a fare il suo piccolo tribunale nelle situazioni. In questa disputa il centro è l'osservanza del sabato. A voi forse non dice più di tanto, perché che vuol dire l'osservanza del sabato? In Israele lo shabbat, il giorno del riposo aveva tutta una regola sul numero dei passi, su quello che potevi fare e non fare, era molto rigoroso. Ma la domanda è perché? Perché il sabato? Cos'è il sabato? Cos'è questa festa del sabato? Per dirla così proprio in modo semplice, semplice, Dio è qua, questo è il sabato. Che fai? Dio è qua, che fai? Questa è la questione. Il sabato è entri in comunione con il Signore che viene o fai gli affarucci tuoi, di cui insomma ognuno si è un pochettino organizzato, no? Ognuno ha trovato anche come accomodare il sabato. Lo sappiamo anche da altre dispute. Ricordate, se a uno di voi cade un buvo, un asino o un figlio nel pozzo, in giorno di sabato, non lo tirerà su? Eh, era una delle altre dispute. Il sabato. E qui vengono messi sotto accusa questi discepoli il pretesto, perché camminando prendono le spighe e mangiano questi chicchi di grano. Beh, l'invito è vivilo il sabato, non farti dei motivi di piglio, dei motivi, non cercare dei motivi per accusare gli altri, ma tu lo spirito del sabato lo stai vivendo, altrimenti sicuramente senti che stai accusando degli uomini innocenti, perché anche tu stai tradendo lo spirito del sabato, che è la comunione con Dio, Dio che vuole fare festa con te, e tu sei occupato nel fare un tribunale, altro. Allora, credo che questo possa essere uno degli argomenti utili per riscoprire sotto un'altra sfumatura il sacramento della riconciliazione. Perché? Perché è il motivo della festa, la riconciliazione è la festa. In qualche modo ti sei allontanato da Dio, ma Dio ti viene incontro e ti fa festa, e tu cosa fai? Entri nella festa, entri nelle sabato. Ricordate che nei versetti precedenti, quelli di ieri, c'era l'essere otri nuovi, essere rivestiti di Cristo, quindi non metti semplicemente delle pezze, delle toppe su un vestito liso, ma cerca di essere appunto un vestito nuovo, essere nuovo nel tuo modo di essere, è lì che cambi. Allora, se vedete la grazia che ci fa il Signore di entrare in comunione con Lui è perché Lui viene, non perché tu ti organizzi e vai da Lui. E da questo ci sarebbe anche da ricomprendere forse la festa per noi della domenica, no? Che è diventato per molti turnisti un giorno come gli altri, perché tu fai ogni cinque giorni fai vacanza e quindi bisogna vedere quando ti capita. La domenica è un giorno lavorativo. per cui potresti non sentire che chiamata stai ricevendo. Per noi la domenica è il giorno in cui poter trovare riposo da tante attività, ma non anche dell'ozium, cioè del fermarsi un attimo e lasciare che la testa possa anche pensare, perché spesso in un ritmo di vita forse è nato non te ne dai l'occasione. Ma il fine, non dimentichiamolo, è il tuo essere rigenerato nella comunione con il Signore. Quindi entrare in questa sintonia, fare festa. Allora, se vogliamo possiamo continuare a trovare dei motivi per non farlo, però almeno non diciamo che non ce n'è l'occasione. Almeno proviamo a sentire che al Signore che bussa alla porta della tua vita, io verrò, busserò, entrerò e ce n'erò con Lui ed Egli con me, dice il libro dell'Apocalisse, questo è l'invito che ci fa, il fatto che Lui viene a invitarci ad un banchetto, cioè ad una comunione. Ma non proviamo un po' di desiderio, di spinta per dire, bene, se questa è l'azione di Dio verso di me, cosa mi impedisce di farlo? Ed è questo che ci aiuta a riconoscere anche tanti peccati che li mettiamo un po' nello scontato, oppure diciamo, beh, facciamo i peccati che fanno tutti. Vabbè, a me mi dispiace se uno si dà le martellate sui piedi, però io cerco di non darmele, almeno, no? Cerco di dirgli, forse è meglio se non te le dai, però non posso dire, beh, me le devo dare pure io le martellate perché gli altri se le stanno dando. Allora, è questo il movimento non semplicemente della logica, è il movimento dello spirito che dice non mentirti, non dirti delle scuse, delle bugie, in ordine al fatto che per essere in comunione con il Signore non è che devi fare dei gran sforzi perché non è vicino a te, è Lui che si fa vicino, è Lui il tuo prossimo. Quindi riparti da lì, ed è quello che anche questa sera chiediamo al Signore di fare, Lui che viene per essere in comunione con noi, trovi un po' della nostra disponibilità, un qualche crepa nei nostri muri, nelle nostre paratie, si infili, porti a compimento quanto è iniziato in noi.